Onorevole, cosa ne pensa delle posizioni degli animalisti italiani? Gli animalisti italiani assumono spesso delle posizioni talmente integraliste da spaventare le persone normali e anche i rappresentanti istituzionali. Costoro vorrebbero imporre i loro stili di vita all'universo mondo. Noi partiamo dal presupposto che questi siano liberi di fare delle scelte di vita e assumere stili di vita anche molto diversi rispetto ai nostri. Quello che non concepiamo è che questi vogliono imporre agli altri i loro stili di vita e questo non è assolutamente condivisibile. Basta guardare il rapporto che hanno con il ragno animale. Una questione specifica legata alla sperimentazione scientifica su alcuni animali per la messa a di farmaci che poi una volta sperimentati sugli animali vengono utilizzati per curare le persone. Caterina Simonsen è la dimostrazione di dove possa arrivare l'integralismo di questi animalisti. Questa ragazza solamente per aver ringraziato gli scienziati che l'hanno curata e gli hanno permesso di vivere grazie all'utilizzo di farmaci sperimentati sugli animali. Questa ragazza è stata oggetto di tantissime minacce anche di morte e di una serie di insulti irripetibili. Noi rispettiamo la scelta degli animalisti di comportarsi correttamente e cioè se sono contro la sperimentazione sugli animali e quindi l'utilizzo di farmaci che derivano da questa sperimentazione che si prendono altri tipi di farmaci e che coerentemente non utilizzano questi farmaci per curare la loro salute, quella loro e quella di loro cari. se poi decidono anche di convertirsi a uno stile di vita che privilegia l'alimentazione con vegetali e quant'altro lo facciano pure tranquillamente. Non capiamo perché tutti noi dobbiamo cibarci unicamente di verdure solamente perché questo è il loro convincimento. Riteniamo indispensabile che l'approccio che debbono avere soprattutto i rappresentanti delle istituzioni nei confronti di queste tematiche sia un approccio razionale e non sia oggetto di pressioni di natura demagogica o integralista da parte degli animalisti. Credo che questo tipo di integralismo non abbia portato finora a niente di positivo. Riteniamo indispensabile che le istituzioni, nell'emanare i loro provvedimenti, usino il buon senso e abbia un approccio scientifico, non demagogico e non integralista. Bene, grazie all'onorevole Sergio Berlato. Arrivederci al prossimo appuntamento.